048 è il codice di esenzione che garantisce il diritto a ricevere gratuitamente presso le strutture pubbliche o private convenzionate e accreditate tutte le prestazioni sanitarie connesse alle malattie oncologiche. Purtroppo però non garantisce in modo altrettanto automatico ed universale l'inserimento nella categoria delle persone ad elevata fragilità che sono le attuali priorità della campagna vaccinale. In queste ore così gli operatori di oncologia stanno contattando uno ad uno tutti i cittadini con il codice di esenzione 048 che hanno dato la preadesione al vaccino comunicando se potranno farlo nel contesto degli ultrafragili oppure in quello per classi di età. A decidere quale delle due opzioni non sono ovviamente i sanitari ma la tabella ministeriale che per accedere al contesto degli ultrafragili indica espressamente pazienti con patologia tumorale maligna non in remissione o in trattamento chemioterapico attuale e terminato da meno di sei mesi. Il codice di esenzione 048 si rinnova ogni cinque anni e quindi può essere che sia ancora attribuito a pazienti clinicamente guariti. Quest'ultimi dovranno fare la prenotazione per il vaccino nelle categorie contraddistinte per classi di età e ricordiamo che attualmente la prenotazione è aperta per chi ha tra i 70 e i 79 anni. Tutti coloro che hanno dato la preadesione al vaccino sulla base del codice 048 saranno comunque chiamati da oncologia per il chiarimento sulla loro situazione in merito al vaccino.